Tutti e mi è arrivata una telefonata e quindi devo ricominciare. Sono stata da Ikea, ho speso 48,90 euro e pago banco ma non vi interessa nulla. Allora ho visto un video di Ikea Screech, non mi faccio vedere perché penso che siano importanti i prodotti e non la sottoscritta, poi ci sarà modo e tempo per vederci nuovamente in viso. Ho comprato queste, ogni confezione è da 4, sono molto fini come vedete perché così occupano meno spazio. Vedete c'è il posto per appunto i ganci sotto, questi li ho pagati, come si chiamano? Ikea ma come si chiamano? Non lo so, però dovremmo avere per 4, per 4 dovrebbero essere questi, questi da 2,50? Eh sì, 1, 2, 3, no non sono questi e 4, sì dovrebbero essere loro, 2,50 euro, quindi ne ho presi 4, per 4, 4, 8, 12, 16, ne ho presi 16 di questi, infatti eccoli qua. Altro, altro e il quarto è questo, scusate ma ho la busta qui accanto a me, sto cercando di far ricrescere le unghie ma ho poche speranze. Poi ho preso questi, tutti li conoscono, ho preso quelli viola, quelli viola, quelli viola, stavo controllando se stava registrando, si chiamano Ishtad, Ishtad, vediamo dove, eccoli qua, li ho pagati, Ishtad 2,99 euro sacchetti e sono, ne contengono, quanti ne contengono? 50, 50, 25 da 2,5 litri e 1,2 litri, altri 25, quindi sono in tutto 50, comodissimi per portarmi il pranzo al lavoro, sono favolosi. Poi a 1,99 euro ho trovato questa tenda doccia, mi ha fatto morire dalle risate questa, è bella da vedere, caso mai farò una foto poi la posterò su Instagram, Facebook e Google Plus, scusate ma ho una dermatite terribile sulla mano, sul palmo della mano e questa è Fear, come si legge? Fear Grunt, comunque carinissima, molto carina, 1,99 euro l'ho presa soprattutto per il prezzo e poi ho preso, sempre vedendo un video di Kia Screech, questa è la confezione da 100 di candeline piccoline per bruciare le mie tart della Yankee Candle, queste sono senza profumo e penso che siano le cose più ideali, perché ovviamente non amo aggiungere aroma ad altro aroma, quello delle tart che già basta di per sé, queste sono le Glimma, andiamo a cercarle sullo scontrino, glimma, glimma, eccola, l'ho pagata 3,50 euro, eccolo qua, 3,50 e sono 100, quindi sarò bene per giorni e giorni e settimane, mesi, mesi, giorni, poi ho trovato questo, questo è Ilta, Ilta, l'ho pagato 99 centesimi, adoro i post-it, quindi questo ho detto lo prendo perché i post-it non bastano mai, poi ho preso Drumlik, vediamo dove sta Drumlik, candele 3,99, sono le candele che hanno tutti, adesso queste non so, perché avevo idea di fare una cosa con queste candele, ma non ve la dico, non ve la dico, però le conoscete tutti perché c'è anche la versione più grande, con due candele più grandi, ma preferisco queste piccoline, queste mi piacciono di più, poi ho preso Luga, ho preso questa all'odore di bucato, questa è buona, non mi piace più di tanto rispetto all'altra poi che ho preso, 20 ore, però non è male come profumo, notate come Ikea adesso scimmiotti vagamente le Yankee Candle, perché anche lei fa le jar, c'era questa versione che costa 2,50 euro, poi c'è anche quella più grande, però ho voluto, visto che non le ho mai provate, ho sentito solo l'odore, e ho detto iniziamo con quella piccola, poi se mi piace prendo quella più grande, altrimenti niente, e questa l'ho pagata 2,50 euro, poi, ahia, ho dato una mentata, una mentata al tavolo, e poi ho preso questa, questa credo che sia il profumo di cipria, di talco, questa è la mia preferita, questa secondo me è la più buona, tra tutte quelle, ce n'erano tre tipi, e io ne ho prese due perché poi la terza non mi piaceva, non mi ricordo neanche più la terza che cosa era, ah, i biscottini, ma non mi piaceva quella, quindi c'era quella bianca al cotone di bucato, poi c'era questa rosa, che credo sia talco o cipria, rosa, e poi c'era quella grigia che era di biscottini, ma non mi piaceva, questa è favolosa, questa è la mia preferita, secondo me questa è la migliore, anche questa 20 ore, ho preso anche di questa la jar piccolina, 2,50 euro, perché ovviamente come prova è meglio iniziare dalla piccola piuttosto che dalla grande, poi ho preso questo, che era in offerta 16 euro, quasi 17 euro, che è il copripiumino, mi piace perché mi dà l'idea, tipo i copripiumini che si trovano nelle baite, era in offerta meno di 17 euro, 16,99 euro, era in offerta, l'ho preso, ovviamente io avendo il letto matrimoniale, ovviamente questa era in offerta, e l'ho preso, questo mi piace molto come fantasia, devo essere sincera, molto semplice, molto lineare, molto pulita come linea, mi piace, poi non ve li mostro perché li ho in macchina, perché gliele devo portare, per un mio amico ho preso gli strofinacci che si non asciugano, non so perché, allora ho detto vabbè glieli compro così almeno quando andiamo lì cuciniamo eccetera, almeno ci asciughiamo realmente, e poi gli ho preso lo scolaposate, sapete quelli in acciaio, tutto bucherellato, però non mi ricordo quanto veniva, questo è 15,99 è il copri piumino, non mi ricordo l'altro, come si chiamava, e quanto, non mi ricordo, non mi ricordo quanto veniva, glimma, glimma, sarà stato 2,50 euro sicuramente, Fergrund, Ishtad, variera, forse questo 3,99, non lo so, non mi ricordo quanto è venuto, comunque ho preso ecco quello scolaposate, quello tutto bucherellato d'acciaio, questo era il mio piccolo haul di Ikea, ecco qui il mio bottino, ci vediamo alla prossima, ci sono uscita 7 minuti, buona serata a tutti, bacio!